Ragazzi sono le 21.05, hanno suonato il citofono e il conto è sceso perché hanno detto che c'è una consegna per noi a quest'ora Chi sarà? Il mittente e soprattutto cosa sarà? Certo Cioè la mia ex moglie consegna fino a quest'ora? Ah signorina per i pacchi fino a st'ora? No vabbè Ragazzi starà salendo mi auguro, certo Vediamolo No vabbè Ma che è a quest'ora? Ci hanno portato un regalo a domicilio, un artigiano e gli ha fatto proprio lui questo regalo Ce l'ha fatto lui questo regalo? No, sono andati da lui e ci hanno fatto questo regalo Io posso dire già chi è, adesso le apro Cannavò Maria Grazia Cannavò Maria Grazia? Sì Va bene Ora la seconda parte Ma sono cose importanti mi sembra Sì importantissime fatte da quest'artigiano di zafferana Di zafferana, va bene ragazzi a tra poco allora con la parte 2 del regalo di Cannavò Maria Grazia Maria Grazia C'è una bella lettera che devo leggere Allora leggiamola E poi facciamo la seconda parte e facciamo vedere Che dici? Eh, chiede già Cioè cominciamo dalla lettera Per Armando e Nunzio Sì Emozionato, si vede che è emozionato Dani, Armando e Nunzio Sono Maria Grazia Ho 56 anni Abito a zafferana e tinnea È inutile dirvi che vi amo Da un anno e mezzo vi seguo e siete entrati nel mio cuore E non siete più usciti Mi sveglio e mi addormento con voi Ma non posso farci niente Le vostre voci, i vostri video, le live sono la mia compagnia Sono felice che finalmente sono riuscita a mandarvi un regalo Mi auro che sia di vostro gradimento L'ho scelto pensando a voi Ma non so se ho indovinato i vostri gusti Chiaro che se non sono di vostro credimento lo cambiate È brutto tenere in casa cose se non piacciono Senza problemi davvero Un abbraccio fortissimo e concludo dicendovi Vi voglio tantissimo bene Ciao Maria Grazia Anche noi, grazie Grazie, cuore Ora c'è la seconda parte che faremo vedere Sì Tra poco ragazzi parte 2 di queste meraviglie Ma sono due cose enormi Proprio enormi Vabbè ragazzi a tra poco No vabbè Proprio emozionatissimo Proprio come da scelta Alla prossima Grazie.